In Irpini adesso per l'Ariano Film Festival, sentiamo il bilancio di una settimana di proiezioni gratuite con Marina De Rosa. Giunta la sua undicesima edizione si è chiuso l'Ariano International Film Festival, la Kermes cinematografica che ha celebrato la settima arte con un programma ricco e interessante e che ha visto l'alternarsi di lungometraggi, documentari e corti in un vortice di emozioni e potenza visiva. 70 le opere finaliste con la grande novità di questa edizione 2023 della sezione Made in Campania. Ospiti prestigiosi come l'attore italiano Rocco Papaleo e l'attore turco Urur Ginesh e con alcuni protagonisti della serie di successo Mare Fuori hanno calcato il red carpet nella serata finale permettendo al numerosissimo pubblico di conoscere da vicino i propri beniamini. Fuori concorso il documentario Il Terremoto, Irpinia 1980. Tanti premiati nelle varie sezioni in gara, IVE World, IVE Green e Made in Campania e in questo modo il pubblico ha potuto conoscere culture nuove, affrontare temi complessi e molto sentiti e provare emozioni che solo il grande schermo sa regalare.